Franco Angrisani è il volto nuovo di questa campagna elettorale di Brasigliano, nel segno della continuità dell'esperienza e anche di una capacità, quella di aver aspettato i tempi giusti. E' vero, aspettato proprio no perché è stata inaspettata, sono stato invitato dall'amministrazione uscente e mi hanno proposto la guida della futura amministrazione, l'amministrazione che è a 70% ripropone i componenti che erano già nella scorsa consigliatura e poi aggiustata e integrata con altri elementi tra giovani e gente che ha già esperienza. La tua è un'esperienza maturata negli anni, hai già vissuto all'interno di Palazzo di Città? Sì, diciamo che io da 10 anni non mi affaccio sulla politica comunale, la politica del paese. Ho fatto l'assessore e l'amministratore per tre consigliature, la prima con Giuliano e altre due con l'ex sindaco Ferdinando Albano. E diciamo che ho maturato, penso, una buona esperienza. Assolutamente sì, l'amministrazione Rescigno ha prodotto molto, specialmente in termini di opere pubbliche. Ha messo in piedi, ha avuto la capacità di approfittare le risorse comunitarie e quindi ha progettato molto. Molte opere sono già avviate, i lavori sono già avviati, ma altre saranno oggetto di attenzione della futura amministrazione. Quindi di conseguenza, gioco forza, c'è questa continuità, quantomeno nelle opere strutturali. Ecco, questo sì.